Ehi, bentornati! Eccomi qua con la seconda puntata del riassunto barra analisi di Last Evaluation, il survival show che formerà le Baby Monster. Vi consiglio di recuperarvi il primo video se non l'aveste ancora visto. La seconda missione è una solo vocal mission, quindi per la prima volta dalle valutazioni mensili, cioè i primi video che ci hanno mostrato di ognuna di loro, le vedremo tornare ad esibirsi da sole e soprattutto potremo apprezzare di nuovo tutto il potenziale di quelle magnifiche voci. Infatti purtroppo alcune voci ostili non emergevano particolarmente nella black mission quanto nelle live performance. Dobbiamo però abituarci all'idea che rinuncino al proprio stile e alla propria identità vocale perché alla fine è quello che succede molto spesso nel momento in cui entri a far parte di un gruppo. Quindi diciamo che queste sono forse le ultime occasioni per noi per sentirle sfruttare al meglio tutte le loro potenzialità. I brani in teoria, capirete perché, sono scelti dalle ragazze e sembra che non ci sia alcun tipo di restrizione in questa scelta e non sono nemmeno obbligate a rifare canzoni di artisti della YG. Anche in questa prova hanno 30 giorni a disposizione per prepararsi. A metà del tempo concesso c'è però una valutazione intermedia a cui partecipa anche Yang Hyunso. Raga prima o poi magari imparerò a pronunciarlo ma non credo che sarà in questo video. Tra l'altro quella stregaccia cattiva di Yang Hyunso decide di far cambiare canzone ad Ah Hyun perché in quella che aveva scelto c'era un po' troppa carne sul fuoco e dopo averle sentite fa una classifica su chi gli è piaciuto di più, di meno o chi è stato più bravo, meno bravo. Non si sa, non lo specifica bene. Dà comunque dei punteggi quindi suppongo sia in termine di performance e stavolta la classifica ci viene mostrata interamente. Al primo posto pari merito ci sono Chikita e Parita. Subito dopo Laura. Al quarto posto Ah Hyun che quindi non aveva fatto così male anche se la canzone scelta non gli piaceva. Quinto posto Aram. Quinto posto Aram ma stiamo scherzando. Cosa? Io non so come sia stata nella prova intermedia ma io l'ho sentita dopo e quinto posto Aram è uno scandalo. E all'ultimo posto le giapponesi e poi a rimerito. Ma come vi dicevo anche nel video precedente io ormai sono convinta che per Chikitina abbiano già deciso che farà parte del gruppo. Cioè questo è deciso dall'inizio e me ne sono convinta per la quantità di complimenti che riceve che sì ci sta perché comunque per l'età che ha è veramente spaventoso il suo talento ma anche le altre sono enormemente brave. Poi per la quantità di screen time che le danno in tipo ogni occasione e infine la quantità di volte in cui viene paragonata a Lisa. La YG secondo me ha già deciso che Chikita sarà la nuova Lisa. Comunque a proposito di editing e spinte da parte della produzione vi ricordate che avevo anche detto che secondo me anche Parita era già nella line up finale almeno su di lei hanno già le idee chiare. Ecco in questo caso giustifico la cosa perché le hanno dato un botto di screen time facendole concludere il quarto episodio e iniziare il quinto episodio creando quindi un sacco di hype sulla sua performance nel senso che la gente ha aspettato per una settimana soprattutto la performance di Parita dato che era quella che era stata interrotta alla fine del quarto episodio. La stessa cosa però aggiungendo addirittura un arco narrativo l'hanno fatta con Chikita alla fine della quinta puntata e con Akion alla fine della sesta. Parita si esibisce in All of Me. Brividi. Dimostra una maturità e una dolcezza nella sua voce che è molto molto particolare e varia tantissimo dai toni alti ai toni bassi. Tra l'altro è una voce caldissima. Solo complimenti per lei e addirittura Yan Kiyosog da un certo punto in poi ascolta la canzone con gli occhi chiusi si lascia andare. Laura sceglie Someone You Loved. Canzone super adatta a lei che ha come punto forte l'interpretazione dei brani. Più l'ascolto e più inizia ad avere i dubbi che forse le caratteristiche della sua voce e il suo modo di interpretare le canzoni siano più adatte a una solista che al membro di un gruppo e tra l'altro più che interprete proprio cantautrice. Non lo so io ce la vedrei davvero bene come cantautrice solista. Ditemi anche voi se avete avuto questa sensazione nonostante io la voglia nel gruppo è un pensiero. Questa comunque per me è la sua esibizione migliore finora. Asa si cimenta in Me, Myself and I e ci stende. Dopo aver provato ogni parte cento volte e aver simulato l'esibizione più volte con persone che la guardavano sale sul palco e fa soltanto vittime. Da quella boccuccia meravigliosa escono soltanto proiettili che estendono e poi e poi e poi la voce! Io ero convinta che fosse soltanto una rapper incredibile e una buona vocalista ma che estensione! Cosa fa? Ma è impazzita totalmente! Io comunque amo sempre di più il suo timbro alto mentre rappa e viene anche apprezzato il fatto che lei non abbia scelto scorciatoie e che praticamente tutta la parte rappata sia in coreano. Chiquita sceglie una canzone bellissima di Olivia Rodrigo, Traitor, ma purtroppo prende il covid durante la preparazione. Giustamente doveva andare proprio così, proprio in quel momento. Guarisce comunque per tempo e non so come riesce a fare una performance che non è solo decente, non è solo buona, è strabiliante! Nonostante tutti i sintomi post covid che possa avere una persona lei ha soltanto la voce un pochino nasale. Il suo talento mi spaventa ogni volta di più ed è la perfetta definizione del nome del gruppo, una baby monster. Non solo sento che debutterà ma anche che sarà la face of the group. Ve l'ho detto, vediamo se ci azzeccherò. Luca sceglie due canzoni che mixa insieme, Astronaut in the Ocean e Magboom. Ha spaccato, c'è poco da dire. L'esibizione è tra le più baddest, anzi credo sia la più baddest viste finora, ma è solamente rap, anche se è rap di altissimo livello. Tra tutte le esibizioni è quella che ho preferito di meno. Sinceramente avrei voluto sentirla cantare, almeno un pezzettino. In ogni caso lei è la rappresentazione perfetta di ciò che è sempre stato il rap in YG style. Aram, 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 raga, Aram. Con pick up your feelings. Raga, 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 aiuto. Ha deciso di stendere tutti e fare note che praticamente solo Ivy e Kumari ascono a sentire perché sono ultrasuoni. La canzone è super R&B e il suo timbro è pazzesco, maturo e molto graffiante. E mamma che estensione vocale! Però non è forse un pochino sprecata per un gruppo. Sappiamo già tutti che nelle Baby Monster tutto questo potenziale vocale non verrebbe mai sfruttato. Riceve pure i complimenti dai winner tra cui anche Yoon che per farvi capire è quello che canta I love you. Stavolta è venuta particolarmente male perché sono ancora senza voce. E infine abbiamo la mia pupilla a Hyun che era stata precedentemente spenta per la scelta della canzone, anche se secondo me aveva spaccato, perché secondo Hyun Sok c'era troppa troppa carne sul fuoco. Cercava di far vedere un po' troppe cose, c'era un po' troppa confusione in tutta l'esibizione, anche se effettivamente la capisco perché è disperata e vuole debuttare a tutti i costi e quindi cerca di far vedere tutto quello che ha in repertorio, tutto quello di cui è capace. Fino ad adesso tra l'altro mi è sembrato il membro più determinato e quello con più volontà combattiva. Alla fine comunque sceglie Dangerously, Dangerously, Dangerously. Sceglie questa canzone e mamma mia quanta passione! La sua voce è cristallina e ti buca le orecchie. Oh comunque mi ero dimenticata di dirvi questa cosa che ho realizzato a caso mentre guardavo Last Evaluation. La sua voce mi ricorda un botto quella di Somi. Ora che ve l'ho detto pensateci e ditemi se non la ricorda anche a voi. Comunque pure lei ha un'estensione pazzesca e praticamente tutti i membri delle Baby Monster sembrano essere Main Singer Material. Se dovessi fare una classifica vi direi Haram, Ahyeon, Asa, Chikita, Parita, Lora e Ruka. Fatemi sapere nei commenti anche la vostra classifica delle esibizioni dalla preferita alla meno. In questo caso tra l'altro si può parlare soltanto di gusti personali perché nessuna è stata minimamente un po' meno brava delle altre. Cioè sono state tutte, tutte pazzesche, fenomenali e perfette. Quindi alla fine si parla soltanto di quello che ti è rimasto di più o quello che ti ha colpito di più. Dopo due o tre mesi di attesa di Last Evaluation, perché appunto non so se la Blackpink Mission l'abbiano fatta in due mesi diversi o nello stesso mese, le ragazze probabilmente pensavano di poter scoprire di lì a breve il proprio destino. E invece no, un'altra missione! Ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questa missione, la vostra classifica e delle considerazioni che ho fatto in generale. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!